Buongiorno cari amici, eccoci qua, scusate un po' di tosse, mi sto riprendendo un po' dalla mia influenza, sono le 14.43 del 16 oggi, o no? Oh cavolo, non mi ricordo mai quanto ne abbiamo, strano questa cosa qua, secondo me ho la memoria che sta andando a pallone, può essere, o può capitare di tutto e di più, e no no dai, sabato 16 2019, bello della diretta, che uno non si ricorda più, con la memoria sballa, questo è segnale di arteriosclerosi, ecco io ho arteriosclerosi, quello che hai capito, ok dai vai con la sigla di apertura e vi ricordiamo i nostri indirizzi. letteralmente.info, nostro indirizzo di posta elettronica, radioyoganetwork.gmail.com, buon ascolto. eccoci qua, cari amici, buon sabato, dunque dal titolo ho scritto, se non erro, due angeli, due angeli, per chi non lo sapesse, no aspettate, due angeli, un angelo è chi ha fatto un gesto veramente da angelo, ci sono due amici, due pelosetti, Lucky, che è un bellissimo cucciolo nero col musetto bianco, e Clover, un altro bellissimo cucciolone color marrone, due simpaticissimi miei amici, insomma che questi hanno avuto una storia un po' così così, l'angelo che l'ha preso, insomma due angeli diciamo, perché uno è il papà di questa ragazza, signora, donna, signorina, insomma non posso fare il nome giustamente per questione di privacy, per cui, chiamiamola, come possiamo chiamarla, dottoressa, chiamiamola dottoressa, anche perché è una dottoressa, comunque è una gran brava, brava, bella persona, bella esternamente, bella anche di cuore, di tutto, una gran bravissima, bravissima persona, diciamo che mi ha anche salvato la vita, comunque, per cui avete già capito che dottoressa è, senza fare nomi, eh, spero che non se la prenda, comunque, ci stavo dicendo, sapete che c'è il problema del randeggismo, ci sono molti cani lasciati andare così alla deriva, tanti vogliono il cucciolo per il bambino, poi cresce, comincia a diventare noioso, si piglia e si butta fuori casa, insomma, poi questi cani crescono, trovano il mangiare un po' in giro, insomma, e fanno gruppo, fanno branco, poi fanno delle cucciolate, e un giorno, appunto, questa dottoressa qua, andando verso casa, vede un cucciolo, lì per lì, ed è stato amore a prima vista, anche se sul momento non lo voleva prendere, poi è stata lì, ma poi alla fine l'ha preso, è contrario anche i genitori, ma non perché, anzi, loro amanti anche loro di animali, di tutto, è perché questa signora qua, questa donna, ha problemi con il lavoro che sta via parecchio tempo, fuori casa, insomma, come fai a curare un cucciolo? Oh, e piano piano ce l'ha fatta, questo cucciolo è di dato bellissimo, nel frattempo, sempre strada facendo, vede un altro cucciolo, si guardano, colpo di fulmine, e lì lo piglia e lo porta a casa, e insomma, lei riesce a tirarli su insieme, crescono, li addestra con tanto amore, ma non addestrarli in modo barbaro, no, no, non pensiate, perché i cani si possono addestrare anche regalando biscotti, dolcezze, carezze, infatti lei l'ha addestrata così, piuttosto muoiono di fame, ma se non c'è la loro padrona, questi due meravigliosi cani non mangiano senza l'ok della sua padrona, qualcosa veramente di fantastico, insomma, questo è amore, è vero, Angelo è stato lei, il secondo Angelo è stato il padre di questa dottoressa, che insomma ha accompagnato a sua figlia andare a prendere queste cucciole messe alla strada, l'hanno portati a casa, l'hanno cresciuti, tutto quanto, insomma, ha tirato su due cani che sono un qualcosa, ma il bello è che sono anche molto molto attaccati, nel senso che se magari ci va qualcuno in casa che comincia a urlargli alla loro padrona, diventano molto, vanno sulla difensiva, diventano, come posso dirlo, un po' rabbiosi, insomma, c'è già sta la teta, non è una cosa simpatica, però, insomma, loro lo sentono a pelle, però per questo che ho detto però, però se già a pelle non gli vai giù, questi cani non ti fanno neanche avvicinare, perché chi meglio di un cane sa riconoscere l'animo gentile, buono, bravo o cattivo di una persona, eh cavoli, quando sono cresciuti bene, sono cresciuti con tanto amore e sanno riconoscere una persona cattiva, e belli, sì, il più bello, sono tutti e due belli, quello nero con musetto bianco che mi piace molto, si chiama Lucky, e quello marrone è Clover, per cui sono due cani che sono qualcosa veramente di fantastico, ragazzi, io ho visto le foto, infatti ho scritto un articolo, l'ho anche stampato, e questo è far capire che nel mondo, oltre ad esserci quelle persone che lasciano andare i cani, che le matrato, che le picchiano, ma ci sono angeli, anche come questa dottoressa che ha saputo prendere con amore due cuccioli che le ha fatte diventare adulti, ma non aggressivi, sono due tesori proprio, e le accompagnano anche sul lavoro, ma fino a un certo punto di strada, perché poi le rimanda indietro, se fossero per loro gli andrebbero dritti dritti con lei, fino a portarla in sicuro, diciamo, ecco, proprio l'adorano, l'amano, questa dottoressa, è qualcosa di incredibile, meritano appunto questo articolo, questa dottoressa ha meritato tanto, perché non tutti sono disposti a fare quello che ha fatto lei, a portare a casa dei cani, dei cuccioli, farli curare, vaccinarli, insomma, proprio, proprio, amore, amore, amore. Vi lascio qualche secondo, dai, con la nostra musica, e poi riprendiamo. Grazie a tutti. Ecco, come volevo ben dire, eccoci qua, siccome volevo ben dire, la storia di lasciare andare i cani per strada, adesso purtroppo non ci sono più i cassonetti dove bene o male questi poveri cani, i randaggi, riuscivano a procurarsi un po' di cibo, non ci sono più, è venuto a meno, e stanno diventando un po', insomma, pericolo, giustamente, allora hanno fame, devono mangiare, per cui sono un po' arrabbiati e attaccano l'uomo, però ho notato che se te non ti avvicini, non fai niente, loro non dicono nulla, ecco, ti lasciano in pace, è certo che quando c'è la fame non si capisce più nulla, ma così succede anche nel genere umano. L'unica cosa che chiedo alla popolazione ogni tanto, come abbiamo fatto anche noi stamattina, portare un po' di pane dove i soliti si riuniscono, infatti noi abbiamo portato un sacco di pane, lì è insomma da dargli sempre qualcosa da mangiare, giustamente, devono nutrirsi e poi abbiamo notato che ci sono dei nuovi cuccioli, insomma hanno più fame, devono allattare, per cui hanno bisogno anche di mangiare e di mettersi un po' in forza, che tanti non fanno, se ne fregano un po' di questi mandaggi, sono appena capaci di lamentarsi, direi ma il comune non fa nulla, vanno eliminati, vanno qui, vanno niente, bisogna lasciarli in pace i cani, sono esseri viventi, va tutto lasciato in pace e rispettato. Qualsiasi essere vivente non è essere umano, qualsiasi essere vivente l'ha rispettato perché ha diritto alla propria vita e tu non sei nessuno per uccidere. Prendete esempio appunto di questa dottoressa che ha preso con amore questi cani, ma a me mi è rimasto talmente impresso perché mi ha raccontato la storia, è qualcosa di fantastico e così avrei piacere se tanti farebbero come questa signora qua, di prendere con amore questi cuccioli che trovate in giro, se non potete tenerli a casa portategli da mangiare almeno ogni tanto, un po' di pane, cosa vi costa? Andate da un fornaio che hanno tanto di quel pane da buttare via che ve lo danno con molto piacere, vabbè poi c'è quello che se ne frega piuttosto che preferisce buttarlo via o macinarlo per i fatti loro, vabbè, ma comunque non tutti sono uguali ecco, trovate anche l'anima gentile che vi aiuta. Il brutto è questo qua, che tanti genitori devono imparare che ai figli devono insegnare l'educazione nel senso che i cani, i cuccioli, i gatti, i gattini, qualsiasi tipo di animale non è un giocattolo, è una vita e la vita va rispettata, per cui se hai tensione di prenderlo a tenertelo a casa, devi saperlo rispettare e sai che comporta responsabilità, passione e voglia di tenerlo, per cui lo devi curare, lo devi portare fuori, pioggia o non pioggia, loro devono uscire a fare i loro bisogni, perché non sono come gli esseri umani che i bisogni li fanno a casa, vabbè c'è certa gente che è di quello che ho visto, lasciamo perdersi, andiamo un velo pietoso. Poi specialmente in questi giorni qua, insomma che se ne sono sentite tante, adesso l'ultimo ho visto un cane, poverino, legato alla catena, che deve allattare dei cuccioli, è proprio una barbaria, non si possono vedere, è proprio da star male, una cosa che non mi piace, insomma non posso vedere certe cose, cose orrende e non si può far nulla, ci serve da sparargli, ma mi hanno detto che se spari una persona ti mettono in galera, per cui ecco, qui è una cosa che non capisco, perché se io sparo una persona mi mettono in galera, se sparo un animale nessuno dice niente, non è mica anche lui un essere vivente? Per cui no, tante cose sono fatte sbagliate, si è una mentalità molto, no estroversa, come posso dire, un po' sadica, perché se uccido un canno, un gatto va bene, se uccido una persona non vado dentro, ci sono delle persone che sono peggio delle bestie e non le puoi toccare il colmo, mentre dei poveri cani, dei poveri gatti, perché difendono i propri figli o ti mordono perché hanno fame, tu le devi abbattere, allora la legge non dice niente e va ammesso, e no, non è giusto, pensate che ci sono degli esseri umani che violentano bambini, uccidono, eppure non gli fanno nulla, con le nuove leggi come fanno? Non lo so, trovano delle gabole che entrano da una porta ed escono dal portone, un cane se magari morde qualcuno che vuole fargli del male ai suoi cuccioli viene ucciso, perché dicono che è un cane che morde, ma siamo dando i numeri, ma a volte col cervello non ci siamo, no, no, lasciamo perdere, guardate, già oggi è una di quelle giornate che gira così, va bene, comunque non voglio rompervi le scatole che già lo sapete come la penso, sono per il rispetto della vita umana, salutiamo questa nostra carissima amica dottoressa, un abbraccio grande grande da Fabio e da tutti quelli che la vogliono bene tantissimo, specialmente tutti noi che sono amanti del mondo animale diciamo proprio, della natura, dell'ambiente, un abbraccio grandissimo e forse ci rivediamo io e te, non lo so, comunque niente, passiamo i saluti al nostro carissimo amico Gaetano, l'altro nostro amico Damiano che abita in un altro paese, Petralia, una enna, enna bassa e una Petralia, caro Damiano, caro Gaetano, come sempre noi siamo qui, più forti che mai, viene da ridere che voi sapete il parquet, dai, allora ve lo dico, viene da ridere perché c'è gente che si lamenta per un raffreddore così, mentre io, Damiano e Gaetano insomma abbiamo passato dei momenti un po' bruttini e non ci lamentiamo, devo fare gli auguri a Damiano che con il suo problema di sua mamma, spero appunto che stia molto meglio, che si sia già, diciamo, ripresa, pian piano, ieri ha avuto un intervento, al femore che è caduta, insomma ha avuto dei gravi problemi, speriamo che vada tutto per il meglio, una preghiera per sua madre e una preghiera per il nostro carissimo amico Gaetano. Un saluto al nostro amico Maurizio da Ferrara, Renzo da Bologna, la nostra Cristina da Ferrara, Boditaru da Sanremo, è un carissimo abbraccio anche a Gabriele e poi la sua radio, Radio Pirata, basta al contrario, è un qualcosa veramente di bello, ascoltatela, seguitela che merita moltissimo, tantissimo. Con questo io vi lascio in compagnia con le altre trasmissioni, oggi vi ricordo sabato, sabato 16 novembre 2019, sono le 14.57, sono già 14 minuti che vi sto rompendo le scatole con i miei sermoni, così, proprio tanto per dialogare, per farvi passare un po' il tempo, magari anche a sorridere, qui dal guerriero Fabio, un abbraccio agli altri guerrieri e a tutto il mondo, vi voglio bene e ci risentiamo domani se possibile o lunedì si riprende su tutto. Vi lascio in compagnia ancora qualche secondo con il nostro jazz e poi ci sentiamo per i saluti finali. Mi raccomando, ricordate www.letteralmente.info dove troverete tutte le nostre radio, le nostre tv, i nostri articoli e andate a leggere il mio articolo che ho parlato dei cani, dei randaggi e di questi, di Lucky e Clover, con il nostro Angelo che l'ha preso in adozione, data a leggere che ho scritto poi anche altri problemi di quello che succede nel mondo per via di questi poveri cani abbandonati a se stessi. Con questo io vi saluto, termina la trasmissione alle 14.59, ci sentiamo nelle migliori buone condizioni, ciao ciao, un abbraccio a tutti gli amici.